la piastra induzione c'è per caso la piastra non c'è non è sbagliato posto la piastra induzione c'è il signore quello grosso con la barba che fa questa piatta è buona no perché sono cercando la dispensa dispensa 5 minuti 5 minuti non si agiti non è master chef si guardi le sembro uno chef anche io le sembro uno chef 5 minuti siamo all'interno dell'esterna è l'intervista prima del pressure test ho capito sono Kenny Scannamanna ho 25 anni ho sempre sognato di come siamo quando bolli tagli tagli cucinare mangi cucinare ho vinto qualcosa non credo infatti fin da quando che ho sette anni che mangio è già un buon inizio per andare è bello mangiare una cosa bella sì sì non è non è grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti